Con le maglie del circuito ranking proprio, quindi 5,7,6, bravi, 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 bene, anche per loro la consiglia del premio, il terzo e il primo componente di gara quest'oggi, bravissimo, bene, bravissimo, bravo anche te, i tuoi complimenti sono da parte nostra, arrivano bravissimo, 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 anche per lui. Arriva, complimenti, complimenti anche a lui, bravissimo, sesta posizione, settimo classificato in questo momento, bravissimo, siamo a 53 minuti. 54 minuti e 10 secondi in questo momento, bravo per tutti, sì, per la 12 chilometri e mezzo e per coloro che poi arriveranno fino in tarda mattinata. E arriva anche l'amico Valerio, bravo Valerio, che lui qualche chilometrino per arrivare dalla nostra amica Lombardia che porta veramente tanti atleti, ecco qui, intanto arrivano facciamiche che ci invitano al cross di Santa Cristina, comunque a febbraio, cominciamo magari a segnarcelo o a ricordarlo agli amici. Bravi ragazzi, eccoli qui, arrivano un po' stanti, un po' spremati. Intanto arriva la prima donna, benissimo, eccola qui Johanna, brava Johanna, eccola qui, avanti a chiudere con il pettorale 593, bravissima, consegniamo subito. La conosce, comunque sa il suo volore, è riempirata da qualche mese dopo un grande infortuna e comunque sta ritornando veramente. All'anno scorso, nella sportiva Comense, si è rimasta per la società Lombarda, e intanto arrivano altri atleti, bravissimi, bene, 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 anche per voi l'invito è quello di spostarci. Fabrizio, abbiamo venduto la Volkswagen, bravo Fabrizio, 57 minuti e 36 minuti. Abbiamo gli allenamenti per le ripetute brevi, però si diverte adesso con le corse lunghe, magari dopo in compagnia, ce la beviamo volentieri. Eccoli qui, intanto arrivano anche i compagni di squadra insieme, quindi per aver concluso la gara, bene, anche facce giovani, quindi è bello vedere comunque un minor numero, un riciclo di giovani che vengono a correre nelle distanze. E qua dovrebbe essere l'arrivo di un'altra donna, quindi se non erro la seconda. Siamo qua vicini, bene, 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 Laura, Laura Pagani con il tempo di 59 minuti e 30 secondi, bravo Laura, ti tiro subito l'esprende qua vicino a noi, bravissima, li vediamo infancati, quindi 300 atleti, quindi sono 302 concorrenti al gazebo, e abbiamo superato l'ora, abbiamo superato l'ora in questo momento e bravi ragazzi. Non è possibile. Siamo accompagnati anche qua nel suono delle campagne, e abbiamo ancora un po' di sconvolgere, una vera tranquillità, anche in campo, tranquillità, passione. Grazie ragazzi, e tutti i compagni di tutti i compagni di tutti i staff del psicologo fino alla fine dell'evento, alla fine con i ragazzi, fare un po' di musica. e poi non è possibile. La Fagani in seconda posizione, siamo sopra l'ora, quindi andiamo un bel più di 60 minuti nelle gambe di tutti gli atleti, siamo in attesa della terza classificata, quindi la terza donna, alto livello per quanto riguarda anche la gara più utile, e non solo per la prossima. 614, 1-13-13, 4-9-3. uno tre e nove cinque novellone e quattro c'è la eccoli qua bravi ragazzi bene 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 ho chiuso la fatica un'ora e tre minuti e cinque metri e mezzo quindi intorno all'ora e cinquanta minuti della 12 metri e mezzo e dovremmo poter vedere anche intorno a quell'orario l'arrivo del primo concorrente la gara punta in mezzo ai trecento atleti bravo Manuel bravo il chip dove lo dai? il chip dopo può sei otto uno a tutti coloro che stanno entrando bravissimi ragazzi quattrocento e sessantasette numero di cattolari sei sette donna uno cinque trentuno nella tepe massificato un'ora cinque e poi vedere il pettorale di quello lì uno cinque cinquantuno sei cento quindici e la tarta da darea in questo entro per la vita riguarda le donne un bel numero di iscritte il pettorale quattrocento quattro 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 due nove Buongiorno a tutti. 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 Io lo vi ad accoglio, lo farò dire a casa quando vedi l'infettorale numero 256. E' un'altra cosa, bravissima, questa è la mia signora a livello di società, ci arrivano già i rappresentanti che servono di premiazioni. 5-8, 6-5-1, 6-120. Ho trovato, ho trovato, ho trovato. Vettorale? Ho tirato su perché ero della lucha ma mi son fermato. 6-5-6. 6-5-6. La precedente è venuto come gruppo. Una delle tasse notizie buone, si fa presente nel corso. Vediamo un po' di impatto anche sui piedi sulle gaffi, com'è adatta? Com'è che c'è questo? Chi va duro ma un bianco e invece come sta come Mambio ho marito partito? Eh ma questo è troppo pianco. Bravo. Ho sempre detto che la sport questa è tutta però per me qua, il polo non si interessa male. bene, bene, allora Per coloro che hanno fatto le porti con chiavi qui all'esterno, sapete che... Controlla il numero! 664 Brava! 634 Grazie 686 Paraleledate 416 E' nuova Frecite P弟 Paraleledate Spanile Paraleledate Paraleledate Prende Prende Paraleledate Ciao Andi! 620 metri, arriva il primo concorrente con le maglie della Valle Fuso, quindi a per essere qua. Guardiamo in fondo con gli altri fissa, con Orfeo Pettina Roli. Per essere il prossimo piano rio, l'abbiamo sentito adesso per telefono, quindi manca veramente la foto. Lui arriva, bravissimo! Se avete il numero di mettonati, stiamo facendo un attenzione anche per la gara molto indorata da oggi. Oggi si trovo e tra qualsiasi stanza anche. Oggi si trovo. Vi attendo, eh, all'interno del palazzo. Numero! 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 Bene, 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 si arriva. Tutti qua tra l'aria da Franco Rancais con Icervidio. Brava, bravissimi! Brava, bravi, bravi! Come è andata la sua gara, ad esempio? Bene, bene, è andata bene. È contenta? Tanto fango, tanta fatica, ma è andata bene. Fu ore 13, quindi sono contenta. Bene, bene, grazie. Grazie!